Salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 Io sto facendo questo video non assolutissimamente per offendere o per dire determinate cose Io sono una persona pacifica, tranquilla e gentilissima Però non mi piacciono queste cose, specialmente da youtuber con 2 milioni e passi di iscritti Allora Ciccio, io... sì, mi sto... praticamente mi sto riferendo a te, Ciccichimano89 Devi capire, che penso che probabilmente lo capirai, che su Youtube avere 2 milioni e 400 mila iscritti non è facile È molto difficile, tu sei stato, tra virgolette, fortunato di arrivare fino a questo traguardo E a me fa davvero piacere Però devi anche capire, che se una persona ti offende, tu non puoi permetterti di augurare la morte Capito? La morte, non puoi permetterti assolutissimamente E non te lo dico io perché ti obbligo, tu non sei nessuno a procurare bla 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 No, attenzione, è un piccolo consiglio che ti do È tra virgolette una critica costruttiva Allora, per quelli che stanno guardando questo video, ragazzi, vi dico subito cosa è successo Adesso io non faccio vedere il video, ma faccio sentire solo il vocale Ascoltate bene Ah, premetto, lui sta mangiando il live Quindi questo ragazzino gli ha detto perché mangi il live Vabbè, comunque, tra virgolette, l'ha praticamente offeso a lui Ma comunque sappiamo già che comunque avendo tanti iscritti, ragazzi È ovvio che riceviamo tutte queste Ricevo, no, perché io non è che ricevo tutte queste cose Riceviamo tutti, in particolare, molte offese Quindi è meglio evitarle Evitare di rispondere a queste persone e andare avanti Comunque facciamo sentire la risposta che ha dato Ciccio Facciamo 3, 2, 1 Caro Emanuele Dello Iacono Dopo avermi insultato e dirmi che mangio sempre Questa è la mia cena Io sto qua in live mentre ceno Perché se no non potrei stare in live Tra l'altro Altro tu madre muore presto, quindi Ok? Tanto tu madre muore presto Quindi queste cose, Ciccio, non si dicono A prescindere da qualunque cosa ti abbia detto questo ragazzino Ma non si dicono Perché hai un canale da 2.400.000 iscritti E devi dare l'esempio alle persone che ti seguono Non offendere i ragazzini Perché poteva essere anche un ragazzino piccolo Tu sai cosa succede Anche se lui ti ha offeso, tra virgolette Cioè lui non ha augurato la morte a te o alla tua famiglia Quindi tu augurando la morte a sua madre Se i genitori guardano il video Quindi guardano, tra virgolette, questo spezzone Ti becchino a denuncia di quelle assurde Io ti do un consiglio, Ciccio, io ti seguo Sono un tuo, tra virgolette fan Ho fatto anche la sponsor del Dark House 92 È tutto Però, Ciccio, io te lo dico con il cuore Non rispondere a queste persone So che sono persone senza intelligenza e senza niente Io veramente spero che tu vedrai questo video Questo video è solo per darti una piccola risposta Perché purtroppo ho soldi per donarti E scriverti non ne ho Dato che purtroppo la chat normale sia A volte la guarda, a volte no Ma comunque, tralasciando quello Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video Non sono contro CiccioGamer89 Che sia chiaro Io non sono contro CiccioGamer89 Sto semplicemente dicendo Quello che penso Io ho fatto una piccola critica costruttiva Tutto qua Spero che Ciccio ovviamente non mi mandi lo strike Perché comunque c'è, alla fine Non ho fatto vedere la sua faccia Ho solo fatto sentire uno spezzone di un suo video Tutto qua ragazzi Io vi ringrazio ancora per la visione Noi ci vediamo prossimamente In una prossima live O prossimo video che sia Ragazzi Yuhuuu